Sono qui perché avevo bisogno di un momento così, di uscire, dopo che ho ricevuto una notizia di un followers che Lele Joker, 9 anni, uno youtuber, un ragazzino bambino, malato di lecemia, ci ha lasciato che seguivo, ma appena visto ora, appena visto ora questo messaggio, mi dà tristezza, mi dà tristezza che un bambino a 9 anni, con quella vitalità, con la voglia di vivere, con la voglia di fare che va a Lele, deve smettere di vivere, quindi padre di famiglia, non riesco a giustificare questa cosa, fa male, triste, fa pensare, quindi a, che dire, un grande condolio, un grande condolianza alla famiglia, mi sarebbe potuto conoscerlo Lele, sapevo che venivano negli Stati Uniti per fare visite, cure, però purtroppo non c'è stato il tempo, 9 anni sono troppo pochi, non sono niente, vai, quindi, il mio video finisce qui oggi, con questa amare in bocca, perché comunque lascia tristezza, indipendentemente da un youtuber, no, è sempre brutto vedere un bambino a soffrire e un bambino a andarsene a 9 anni, quindi a, andiamo avanti, un bel dare americano, saluta per oggi e a, noi ci sentiamo alla prossima, ciao! Grazie a tutti.